Allora, la malcapitata è Raffaela, faremo un circuito bruciagrassi total body, dove andiamo a lavorare sulla macrocircolazione, lavorando su più gruppi muscolari. Cominciamo. 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 21, 28, 22, 28, 20, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 24, 28, 29, 30, 24, 27, 24, 25, 2021 4 5 6 7 7 7 8 8 8 11 12 13 14 14 15 1 2 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10 9 10 10 11 12 12 13 13 14 13 14 15 15 16 16 17 17 19 19 20 22 10 11 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 18 18 19 20 20 20 20 20 20 21 22 24 25 30 30 31 31 31 Grazie.